Ciao a tutti i nostri telespettatori, siamo in collegamento con il Giappone e con il campione Ronny Quintarelli, pilota di Super GT, pilota ufficiale della Nissan Nismo. Benvenuto Ronny e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti. Sì. Sì, essere stato riconfermato sul team ufficiale della Nissan Super GT Nismo è un motivo di grande soddisfazione. Ci stavamo preparando per la nuova stagione nei test precampionato e proprio durante questi test poi diciamo c'è un po' intoppato il programma, questa situazione che sta cominciando. Devo dire prima è iniziata qua in Asia e adesso sta coinvolgendo anche l'Europa e il resto del mondo. Infatti ricordiamo che la prima gara del Super GT 2020 doveva svolgersi a Okayama l'11 e il 12 aprile ed è stata rimandata a data da destinarsi un po' come in Italia. Sa che lo sport anche qui in Italia è stato completamente bloccato a causa del coronavirus. Ecco, che situazione state vivendo voi in Giappone da questo punto di vista Quintarelli? C'è un'emergenza, viene vissuta come tale oppure la situazione è ancora abbastanza tranquilla? Devo dire che qua in Giappone è iniziato l'allarme quando è stato lì verso metà febbraio con la famosa Diamond Princess, la nave di crociera che è arrivata qua al porto di Okayama, qua a mezz'ora da dove abito io, che arrivava dalla zona Cina con tante persone a bordo e sembrava, diciamo, un inizio che fosse una cosa controllata, poi si è scoperto che c'erano tanti infetti a bordo, più di mille persone. Nave che era capitanata da un capitano italiano e lì dopo un giro di due settimane, diciamo, ho scoppiato l'allarme di picco qua in Giappone e c'è stata tanta preoccupazione, di fatti all'incirca tre settimane fa poi avevo ricevuto anche tanti messaggi e chiamate anche lì da Verona, da amici e famiglia per sentire come era la situazione e abbiamo passato un paio di settimane veramente di allarmismo, persone in giro ce n'erano poche, si cercava di evitare di salire sui treni, poi dal governo è arrivato dal primo ministro Abe, diciamo, non è stata praticamente un'ordinanza, ma un messaggio come precozioni di dire di cercare di evitare i grandi eventi e di cercare di evitare di andare al cinema dove ci sono raggruppamenti di grande persone, di tante persone e si è passato veramente un paio di settimane abbastanza di angoscia, poi ultimamente, soprattutto da quando è scoperto in Italia, la cosa si è un po' calmata e hanno cercato, come si diceva prima, cercando di evitare questi grandi eventi e andando anche a disinfettare tanti posti, cercare di usare le loro precauzioni che usano sempre in queste situazioni, calcolando che l'influenza qua in Giappone in questi periodi arriva tutti gli anni, e si è andata a migliorare. Adesso la situazione è in miglioramento, abbastanza sotto controllo e la gente proprio dallo scorso fine settimana e ha ritornato a uscire e a vivere una vita normale. Lei abita a Yokohama, si sta parlando lì, almeno nella sua città o comunque in Giappone, di ciò che sta accadendo in Europa e in particolare in Italia? C'è questa percezione dell'emergenza che sta accadendo qui da noi? Devo dire che sono due settimane che ai telegiornali, qua in Giappone, quasi 24 ore al giorno, soprattutto sui telegiornali, sulle news di emergenza che parlano l'80% dell'Italia, perché anche vedendo da qua la situazione sembra veramente critica, e quindi i giapponesi, tante persone che mi contattano, che sono preoccupate, per chiedermi come stanno i miei amici, i parenti. E' veramente, vi dico, quando vi sveglio una mattina che vado a vedere le news, è sempre un terrore per andare a vedere le persone che sono venute a mancare, i contagiati. E' veramente critica la situazione da vedere da qua. Il popolo giapponese è abituato, diciamo, a gestire situazioni di emergenza. Ricordo che lei è anche Stella d'Italia, ha ricevuto questa onorificenza direttamente dal Presidente della Repubblica, attraverso l'ambasciatore italiano a Tokyo. Un popolo preparato, dicevamo, alle emergenze, e quindi sa gestire anche situazioni di tensione, è così? Sì, devo dire che io ho provato sulla mia pelle nel 2011 quando c'è stato il grande tsunami e poi qualche giorno dopo è scoppiata, diciamo, la grande, che poi è venuta anche lì in Italia. Devo dire che due settimane fa con il Giappone si è un po' ripassata quelle sensazioni con poca gente fuori di casa, però devo dire che in quel 2011, in quel marzo 2011 è stata molto più, per i giapponesi, per noi e per me, scioccante, diciamo, perché è stata bruciapelo, nel giro di due o tre giorni si era passati dallo tsunami, da Terramoto tsunami, a questo problema di fucicismo con le radiazioni, quindi devo dire che sì, allarmismo, ma molto più controllato rispetto al 2011, quindi devo dire che qua in Giappone la gente, prima di tutto, cerca sempre di restare sui suoi passi, di non far vedere, anche se magari dentro di loro c'hanno preoccupazione, ma non di esternarla, quindi devo dire che caos non c'è mai stato. E poi anche dai politici, adesso con il primo ministro Abe, cerca sempre di tenere, diciamo, toni abbastanza, non di andare a far vedere allarmismo, e quindi diciamo che la gente si fida dei loro politici e si riesce a vivere dignitosamente, diciamo, nonostante la paura ci sia. Senta Quintarelli, sappiamo che il 24 luglio dovrebbero iniziare anche i giochi olimpici in Giappone, se ne sta parlando, il Comitato Olimpico sta cercando di temporeggiare un po'. Ovviamente è un appuntamento mondiale, globale, che per il vostro, dico vostro, paese, nel senso che ormai lei è metà italiana e metà giapponese, quindi vi permetta anche questa considerazione, un appuntamento che da un certo punto di vista è rinunciabile, dall'altra c'è la consapevolezza che non sarebbe un'edizione, la 32esima, dei giochi olimpici normale. Sicuramente da quando è stato confermato Tokyo come paese, come città ospitante, dovrebbe essere stato 3-4 anni fa, diciamo, è stato veramente per i giapponesi un motivo di grande soddisfazione, tantissimo entusiasmo, si sono dati da fare tantissimo loro, per loro l'ospitalità è sempre la cosa più importante, quindi in questi 3-4 anni hanno preparato tantissime strutture, tutte concentrate qua nella zona di Tokyo, e ha portato tanto entusiasmo, ha dato anche l'infa all'economia qua in Giappone, quindi se non si riuscisse ad avere le Olimpiadi in questo 2020 sarebbe veramente un grosso colpo. però c'è da dire che onestamente sentendo anche mia moglie che è giapponese e le persone che ho qua attorno, diciamo l'entusiasmo che c'era prima adesso si è molto calmato, quindi le persone adesso mettono, anche se l'Olimpiadi venisse rimandata, logicamente la speranza è che possa essere rimandata, non cancellata, non sarebbe un grosso, almeno per i cittadini un grosso trauma diciamo, l'unica cosa è dopo cercare di gestire la situazione economica con, sono stati costruiti anche tantissimi hotel per cercare di ospitare tutte le persone che hanno già anche prenotato, cercare di gestire questa cosa economica che avrebbe bisogno di, diciamo di un controllo non indifferente. Chiudiamo con un'ultima considerazione, torniamo alla sua attività professionale, quindi al Super GT, abbiamo detto che Okayama è saltata, il prossimo test dovrebbe essere a Fuji a maggio, anche perché a maggio c'è il Golden Week in Giappone, che è una manifestazione nazionale, che è una festa, importantissima per il paese del sollevante, a questo punto c'è un interrogativo anche su questa data, lei e chiudiamo, magari cosa prevede anche per il Super GT a questo punto, e poi le chiedo di salutare anche i connazionali italiani, di mandare un saluto affettuoso, insomma, alle persone che anche dall'Italia la seguono, nelle sue gare, nelle sue manifestazioni sportive, lei è quattro volte campione di Super GT, ricordiamolo, è un record assoluto, e finora assolutamente imbattuto e intoccabile, quindi Ronny ci lasci appunto con una considerazione sul Super GT, e un grande saluto, che noi ovviamente raccogliamo a braccia aperte. I test del Super GT, al momento sono stati effettuati tutti da calendario, e questo fine settimana avremo gli ultimi test collettivi del Fuji Speedway, verranno fatti, eseguiti senza spettatori, quindi con il circuito chiuso, solo con lo staff del team, e come si è detto prima, la prima gara di Okayama dell'11-12 aprile è stata cancellata, la seconda gara sarà ai primi di maggio, nella settimana del Golden Week, che sarebbe per i giapponesi come il Ferragosto italiano, quindi una settimana dove chiude tutto, dove le persone si muovono in massa, è una gara molto sentita, forse la più bella dell'anno, perché il Fuji porta sempre sui 100.000 spettatori, e se venisse rimandata anche questa gara al Fuji sarebbe un grosso colpo, anche perché tutti gli anni al Fuji Speedway abbiamo la gara del Golden Week a maggio, e poi anche la gara di agosto, due gare, ma quest'anno per le Olimpiadi il Fuji verrà chiuso da giugno fino a settembre, perché ospiterà le gare di bicicletta da strada, diciamo di bici da corsa, e quindi sarebbe molto difficile poi incastrare il calendario, in caso venisse cancellata anche, rimandata la gara del Fuji. Però nel Super GT, come sta succedendo, anche vedo lì da noi in Italia, per il calcio e gli altri sport, si sta cercando di prepararsi a tutto, diciamo anche di creare magari un inizio di stagione verso l'estate, poi andare a terminare anche all'inverno, anche perché noi abbiamo due gare fuori dal Giappone, Thailandia e Malesia, e quindi io come pilota cercherò di essere sempre pronto, e di tenermi pronto per essere, diciamo al 100%, per performare al meglio, e poi come si diceva i tifosi a Verona soprattutto sono sempre tanti, c'è sempre un fan club che nella zona dell'Alessinia Sant'Anna che mi segue sempre tantissimo, quest'estate come tutti gli anni c'era un programma di avere la manifestazione Motori in Piazza Sant'Anna da Faedo che a questo punto non so se verrà organizzata. Incrociamo le dita dai! Incrociamo le dita! Non vedo sicuramente l'ora di ritornare in Italia, soprattutto spero da programma, come era di ritornare ad agosto, a luglio-agosto, e di riabbracciare tutta la mia gente come l'ho lasciata ai primi di gennaio quando sono ritornato dall'Italia in Giappone piena di energia, con tanta voglia di fare. È un momento difficile, però il tempo secondo me risolverà tutti questi problemi. L'importante è tenere duro in queste due o tre settimane e poi sicuramente si ripartirà, ma non sarà sicuramente questo virus che ci ferma. Grazie Ronny Quintarelli, grazie per aver accettato il nostro invito e ovviamente un saluto anche dall'Italia. Grazie mille, saluti a tutti, ciao!